... ... ... ... Tanto bene voi fate in vostro spazio, tanto bene con i bambini. Per me è sempre quella frase di uno scrittore famoso, perché soffro con i bambini? E per me questo è un mistero. ... Grazie, grazie. Ai bambini di tutte le età, Santo Padre. Noi apparteniamo alla diocesi di Occhido Mamertina e l'associazione di Rosarno. Siamo più di 60 volontari di tutte le età e di tutti i paesi della Piana. E attraverso lo strumento più semplice e più bello che il Signore ci ha donato, il sorriso, cerchiamo, proviamo ad umanizzare le strutture di sofferenza, i luoghi di sofferenza. Continuate, continuate con i bambini. Grazie. ... E' Occhido Mamertina, adesso se ne va Milito. Sì, abbiamo un cambio di guardia. Che ho nominato, c'è il nuovo. Ah, sì? Ma non so se accetta. Vediamo, siamo in quel periodo. Abbiamo bisogno di... Allora aspettiamo, adesso manca poco. Sì, l'ho nominato. Abbiamo bisogno di guide forti. Vediamo, ancora non ho ricevuto chi ha accettato, spero. Speriamo. Speriamo.